Ciao a tutti amici del Branco e Degeneri, io sono Nowa e oggi siamo qui per parlare dei Takin. È una vita che non portavo l'arca e ho deciso di tornare a portarla un po' più spesso, anche per tappare un po' tutti questi buchi che si stanno creando adesso con poco tempo. Anche perché adesso non ho proprio il tempo di vedermi un film e analizzarlo, proprio il tempo fisico. Ma non vi preoccupate, adesso riuscirò a organizzarmi meglio sia con gli orari che con tutto, poi settimana prossima o il primo turno magari mi vedo un po' più di film e quindi possiamo recensire di più. Per quanto riguarda lo zoo, finché non accade nulla non posso registrare e caricare, quindi è così, non posso fare tanto. Ho i video in cucina, ho poco tempo, ho pochi ingredienti e non ho il tempo di andarle a comprare. Gli unboxing ne farei anche tutti i giorni, ma devo comprare roba nuova e non posso sempre. Portate pazienza un pochettino. Oggi come vedete sono qui per parlare del Takin. Facilmente non lo conoscete, ma nemmeno io lo conoscevo già, l'avevo già visto, però conoscerlo bene non l'ho conosciuto mai. Adesso ne parliamo. Il Takin è imparentato col camosce e col capricorno. Per la sua origine è quanto incerta, fa parte di una sottofamiglia dei caprini. L'analisi del DNA mitocondridale hanno mostrato che il Takin è in parente stretto anche delle pecore e come somiglianza è molto simile al buio moschiato, morfologicamente, e costituiscono un semplice esempio di evoluzione convergente. Il Takin è un animale nazionale del Bhutan. Sono abbastanza massicci e alti in circa 100 cm, 130 cm e può raggiungere i 350 kg di peso. Ha una faccia convessa, un muso meglio, è simile a quella di un ariete, con bocca spessa e collo massiccio. Il muso è largo e peloso, solo la parte terminale del naso è molto piccola, è priva di peli e umida. Le spalle sono leggermente curve, il dorso arcuato, il terno posteriore è basso e le zampe sono corte e robuste. Gli zoccoli anteriori di tutte e quattro le zampe si sono spessi e larghi. Perché zoccoli anteriori? Perché gli ungulati, gli artiodattili hanno quattro dita, due davanti e due dietro. Ecco, gli zoccoli anteriori sono le due dita davanti. Molto strane le corna fibrose dalle basi spesse, al pari di quelle del bufalo del capo o del bue muschiato, rialzate rispetto al cranio, leggermente ricurve all'infuori e all'insù. Il colore del manto varia, il maschio presenta generalmente tonalità giallastre che sfumano verso il nero, e sui fianchi e sulle cosce posteriori. Mentre assumono tonalità biancaste sul garese. Nel mezzo del dorso scorre una riga scura. Invece le femmine sono grigiastri e piccoli neri. Nella sun si riscontra una preponderanza di animali rossastri, in un distretto e giallastri in un altro nel Sichuan e nello Yunnan. I maschi sono giallo-oro, carico d'estate e grigi d'inverno. Inoltre, nello Shag-Nsi e nel Gansu, i maschi sono nocciola ocra e le femmine nocciola chiaro, mentre questa striscia dorsale è pressoché assente. Queste però non sono altro che variazioni della stessa specie. Esistono quattro sottospecie del Takin. Partiamo dal Takin Mishmi. Allora, morfologicamente è identico alle altre sottospecie. Si differenzia da esse per un mantello color giallo dorato, sfumato fino al rosso bruno. In alcuni punti del corpo è addirittura nero. Il Takin del Mishmi è diffuso nel sud-est del Tibet e nel nord-ovest dello Yunnan, ma il suo areale in Cina è suddiviso in due parti, dall'esterna punta nord-orientale dell'India e del Myanmar settentrionale. In Tibet, il confine occidentale della sua area di distribuzione è costituito dalla grande ansa del fiume Yarlug-Zangbo, situata a sud del Medog, dove abita le pendici montuose dei confini dell'Arukael-Presdesh, sempre in Cina e a sud-est di questa zona. Si incontra nello Yunnan settentrionale sui monti Galliogash, situati nella riva occidentale del fiume Salwen, e in confine tra Cina e Myanmar. Dopodiché c'è il Takin dorato, tra parentesi guardate che carino. Allora, il suo manto è bianco-giallo sfumato dorato, con delle parti nere meno numerose che negli altri Takin. Questo è confinato nei monti Quinling, nello Shanixi meridionale, ad altezza fino ai 1500-3600 metri, in zone che costituiscono anche una delle ultime roccaforti del panda gigante. Vive su pareti rocciose, scoscese e sui pendii molto ripidi, ai margini della zona alberata, e preferisce le zone ricche di boscati di bambù. L'intera popolazione selvatica conta poca centinaia di individui rigorosamente protetti. C'è ancora speranza, ovviamente, però se possiamo aiutarli, aiutiamolo. Il Takin del Sichuan. Allora, i maschi di questo Takin, a differenza delle altre sottospecie durante l'estate, hanno il vello di un bel colore giallo dorato, e inverno diventa grigio ferro, e il mantello della femmina è molto più grigio. Il Takin del Sichuan vive lungo i margini orientali dell'antopiano tibetano, e in questa zona il suo areale si stende nei monti Min, lungo il confine tra Sichuan e Gansu, e attraverso i monti Quijai, a ovest del Kengdu, alla fine, fino al confine del Yunnan. Passiamo poi dal Takin del Bhutan. Il Takin del Bhutan sono diffusi nelle foreste di bambù, ai mille, ai mille, ai fino ai 4.500 metri di altitudine, dove si nutrono di gemme, erba e foglie. Sono animali diurni, attivi di giorno, e se ne stanno immobili durante le ore più calde. I Takin vivono sui fianchi delle montagne e sui terreni collinari, principalmente in Cina, nelle province del San Zaxi, Sichuan, Gansu, meridionale e Yunnan occidentale. Inoltre sconfilano anche nelle parti settentrionali della Birmania, e nelle colline del Mishmi, della Sam e del Bhutan. Il Takin vive in zone molto scoscese, al di sopra i 2.000 metri, fra le spesse foreste e montane, e specie fra le giungle di bambù e di rododentri, tra i quali si apre uno stretto solco regolare. L'estate il Takin sconfina spesso dalla zona delle foreste, per andare a nutrirsi della zona di bassi cespuglie dagli altopiani, verso i 3.000-4.000 metri. Invece nelle colline di Mishmi, ai pendi scoscesi, forti come le montagne più elevate della Cina, il Takin può scendere anche a 900 metri. D'estate formano folti branchi di 300 individui ed oltre, per brucare insieme in zone ricche del loro abituale nutrimento e ricche d'acqua. L'inverno invece si raggruppano in gruppi molto più piccoli, mentre i maschi adulti vivono solitari per la maggior parte dell'anno. Il Takin brucano ramoscelli, foglie e germogli di bambù nel tardo pomeriggio, dopo aver passato il giorno del fitto nella fita vegetazione, mentre nelle giornate fredde o nebbiose sono sempre attivi. Molto ghiotti di sale frequentano le piccole radure della giungla del terreno salato. Si dice anche che si abbeverino nelle sorgenti d'acqua calda, beh sì, col freddo che fa, li capisco. Nella Cina occidentale la riproduzione avviene a luglio-agosto, nella Sami invece leggermente più tardi, verso settembre. Allora i maschi che hanno vissuto appartati per la maggior parte dell'anno cominciano ad andare in giro con uno o più femmine e diventano estremamente aggressivi verso gli altri maschi. I piccoli vengono partoriti dopo un periodo di gestazione che va dai 200 ai 220 giorni, che è un pochetto o meno di sette mesi mi sembra, sì sui sette mesi circa. In marzo-aprile, in Cina, a maggio, nella San. Per partorire la femmina si rifugia nel fitto bosco della foresta e si riunisce al greggio con il suo piccolo dopo alcuni giorni. Allora, gli abitanti del Bhutan hanno scelto il Takin come loro animale nazionale per le sue caratteristiche uniche e per il suo ruolo che tale animale occupa nella storia religiosa e nella mitologia del paese. Secondo la leggenda, quando il lama Drukpa Khnei visita il Bhutan nel XV secolo, una numerosa folla di devoti si radunò attorno a lui per essere testimoni dei suoi poteri magici. La folla chiese al lama di compiere un miracolo. Tuttavia il santuomo, con il solito fare bizzarro e poco ortodosso, ordinò per prima cosa una vacca intera e una capra per pranzo. Divorò queste con gusto, lasciando solo le ossa. Dopo aver finito, emise un grosso rutto di soddisfazione. Prese la testa della capra e la mise sulle ossa della vacca. In seguito, schiacciando le dita, ordinò alla strana bestia di alzarsi in piedi e di andare a pascolare sui monti. Tra lo sbigodimento degli abitanti, l'animale si rizzò in piedi e corse verso i prati per pascolare. Questo animale divenne noto col nome di Dong Jimeitsei, detto anche Tachin. Da quel giorno, i suoi discendenti si possono ancora vedere al pascolo sui prati alpini e vedete l'Himalaya orientale. Sempre, secondo la leggenda, il Tachin vivrebbe solamente in Bhutan. Sì, questa è, diciamo, questa, diciamo, non so se è una credenza o una leggenda degli abitanti locali. Sono carine da sapere. Cioè, un po' macabra il fatto che assembla le osse. Ma vabbè. Quasi sono i Tachin. So che è bello portare animali un po' particolari. Spero che il video non esca di notte di nuovo, perché, ragazzi, mi è finito tutto l'internet. Il wifi qui funziona meglio mai. E vabbè. Ci vediamo presto. Da Namaste Rani e Tachin è tutto. Ciao.